buongiorno a tutti i membri della espion squad incredibile ma vero sto registrando un video su un cavalletto che usavo per l'iphone ma che non è molto stabile per la videocamera la videocamera è più pesante dell'iphone decisamente perché sto registrando questo video amici è da tantissimo che non ne faccio ma sto registrando questo video perché ho bisogno di sconfiggere l'ansia e quale metodo migliore del fare qualcosa che non sia stare nel letto a pensarci e voi direte ma qual è il motivo di quest'ansia così enorme vado a iscrivermi a equitazione e voi direte ma quindi perché sei in ansia non lo so è questo il bello di essere me io ho ansia per fare qualsiasi cosa che sia nuova quindi oggi passerete la giornata con me amici sarà una giornata terribile perché io sono in condizioni brutte da casa sono pure sudata perché ho portato fuori da poco Tommy e la casa è in condizioni terribili tra l'altro vi devo ancora registrare un home tour ma prima o poi lo farò sistemiamo insieme amici e adesso bisogna lavare i piatti perché la situa un po' non abbiamo ancora una lavastoviglie purtroppo e quindi devo lavare i piatti io voglio lavare i piatti ragazzi questo è uno spugnetto biodegradabile compostabile mi raccomando cercate di creare rifiuti consapevoli e meno impattanti sul pianeta piccola parentesi mentre lavo i piatti mentre stavo pensando siccome il mio cervello sta lavorando proprio sparando cose mi è venuto in mente che volevo chiamare questo video vivere con l'ansia specifico che comunque io non soffro di ansia a livello patologico o almeno non mi è mai stata diagnosticata ma non penso che sia troppo da sottovalutare i miei sintomi però non ho diagnosi quindi non posso dire nulla volevo dire che una delle cose che ho imparato in tutti questi anni in cui comunque soffro d'ansia è che non andrà mai via cioè nel senso letteralmente ogni cosa ogni volta che faccio qualcosa di nuovo che incontro persone nuove che è io ho sempre l'ansia e mi dura anche per diverso tempo prima che quella cosa diventi un'abitudine qualcosa che faccio regolarmente e quindi che non mi crea più ansia e che ha bisogno comunque fare le cose e se è proprio così tanto invalidante che non riuscite neanche solo a pensare di fare quelle cose vi consiglio la terapia ma in ogni caso vanno fatte cioè se aspettate che l'ansia vi passi prima di fare le cose non le farete mai andare a equitazione è qualcosa che mi piace tantissimo che non vedo l'ora che sono anni che vorrei andarci ma mi crea un'ansia terribile però se io non lo faccio sto male perché non faccio le cose che mi piacciono perché sento di adagiarmi su una vita che non mi piace che non... boh starò sempre sul letto a fare boh leggere a fare le cose che mi piacciono eh per carità ma non sono qualcosa che crea una rete sociale è qualcosa che comunque mi invoglia a restare in vita ok vanno fatte raga cioè a me dispiace so che è bruttissimo so che è mega faticoso so che piuttosto vorreste spararvi andare sotto un ponte però raga va fatto va fatto e andate in terapia per prendere delle consapevolezze su di voi capire cosa funziona per gestire l'ansia per voi tecniche di rilassamento cose andate imparate e gestite questa cosa non se ne andrà mai perché non se ne andrà mai ma potete imparare a gestirla poi magari adesso vado fa tre mesi non vado più a equitazione perché mi viene da piangere top torno a lavare i piatti e a pensare mentre cerco di capire come fare a decalcificare la macchinetta del caffè vi dico anche un'altra cosa dite alle persone che vi vogliono bene che soffrite via ansia in quel particolare momento per quella particolare situazione uno perché così le persone eviteranno di pensare di essere loro il problema perché magari rispondete loro male o perché boh cose di questo tipo perché sapranno che siete in ansia ma ricordatevi che voi dovete affrontare questa cosa a tal proposito io ho appena scritto al mio fidanzato dicendogli sto morendo di ansia e quindi lei mi ha risposto e va bene così andrà tutto bene alla fine quindi mi sento un po' meglio perché me l'ha detto non me l'avrebbe detto se non avrebbe se non avesse saputo non so più l'italiano quindi ora finirò di lavare la macchinetta del caffè questa è la macchinetta del caffè questa è una frigidigiaria che comunque se state diventando adulti vi consiglio di comprare non so perché ve lo sto dicendo sono riuscita a pulire la cucina con calma sta facendo la decalcificazione la macchina del caffè appena suonato la lavatrice quindi adesso andrò a stendere se devo scegliere cosa fare quando ho l'ansia è sicuramente fare la pulizia fare la pulizia è qualcosa che mi calma ora devo sistemare i vestiti asciutti Tom mi assiste perché altrimenti mi sento sola grazie a Tom buoni buoni devo stare attento perché lui è un cane molto distratto quindi ci metto un attimo a rovesciarmi la videocamera ma ti voglio bene l'attesa ma certo poi dovrei andare in realtà dovrei andare appunto dal calzeraio per vedere non sono sicura che sia aperto sono stacca voglio voglio rinunciare a tutto poi se riesco ma non so se avrò voglia perché portare fuori Tom tutti i giorni due volte al giorno mi toglie la voglia di fare qualsiasi altro tipo di attività fisica se avrò voglia visto che adesso ho di nuovo internet e posso guardare dei video pensavo di fare un po' di yoga dovete sapere amici che Ale ha questo problema con i vestiti per cui dopo un po' semplicemente si stufa di quelli che ha e quindi ne compra tutte il che vuol dire che aveva già 470 magliette per andare a correre ma non gli piacevano non gli piacevano non funzionano bene non fanno quello che dovevano fare nè 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 fatto sta che ne ha comprate altre e non ci sta più niente in questa casa perché è piccola lui non ha ben capito come funziona quegli spazi comunque guardate che belli i pantaloni sono molto belli perché sono di IQ se qualcuno ha mai visto IQ scrivetemelo qui nei commenti sarò curiosa di sapere che cosa ne pensate perché è il mio anime preferito in realtà io non guardo mai anime però quello mi piace davvero tanto tanto da comprare la divisa ho anche la maglietta dopo ve la faccio vedere ecco la mia maglia non mi ricordo più però perché mi ricordo che ero molto indecisa sul numero da prendere se prendere il numero di Inata o di prendere quello di Zuki quindi adesso questo non mi ricordo se è di Inata o di Zuki ma di qualsiasi sia li adoro quindi va bene così mi viene da piacere ragazzi aiuto che cosa sto studiando amici sto studiando psicologia clinica psicopatologia che la mia psico ha detto che è un libro molto valido tra l'altro ma me lo ha detto dopo che l'ho comprato perché io ovviamente l'avevo comprato e basta è molto interessante è diviso per patologie e ovviamente non ci sono tutte ci sono quelle un po' più comuni per ogni capitolo c'è una bibliografia boh immensa 12 pagine così per ogni capitolo tipo però mi sta piacendo molto e voi direte perché stai studiando questa roba fai l'università no no ma chi dice che solo quelli che vanno all'università possono studiare nessuno io diventerò la migliore psicologa esistente sulla faccia della terra senza una laurea e senza essere risolta all'albo quindi farò un po' come Mike Ross diventerò una psicologa senza essere una psicologa poi mi accuseranno di frode però non avrò un Harvey Specter che effettivamente mi difenderà quindi forse non è che mi conviene tanto eccomi qua mi sono un attimo restaurata perché mi sono anche truccata perché ultimamente mi sento troppo brutta quindi ci sta migliorare un po' la situa con del trucco quindi adesso vado a sistemare queste cavolo di scarpe se si può ad Ale e poi vado a fare questa iscrizione vedrò quando ho la mia prima lezione mamma che ansia raga vabbè siccome non ho voglia di sistemare il casino che ho lasciato e devo lasciare Tommy da solo adesso però il problema chiedendo la porta raga io sono lavagna e su questo siamo tutti d'accordo però fa veramente caldo cazzo non si può vivere in questo modo qualcuno ti dà un cocktail con che dormi stanotte lo capirai soltanto se lo butti giù siamo figure che faccia male a le mosche togliamoci la maschera alla scubidù dirlo raga ovviamente era chiuso quindi io ora sono sotto sulle cucinte a camminare con delle scarpe nel braccio che pesano poi andrò a mangiare un gelato raga l'ho fatto e mi sto cagando sotto di brutto di brutto proprio non voglio più andare non voglio più andare ma ci andrò perché ormai ho anche pagato con i sti gran cazzi boh lo so vabbè ora io Tommy e Ale andiamo a fare una corsetta mi chiamiamo oh siamo siamo di nuovo guarda amore siamo combinati che pro è lunghe eccoci qua raga questo video sarà un casino perché ho un miscuglio di video tra cui l'iPhone ma vabbè niente sono andata a correre appunto come avete potuto vedere per cercare di gestire un po' la situa perché è successo quello che temevo che succedesse facendo un piccolo escursus sull'ansia in realtà è qualcosa di utile per come reagisce il nostro corpo nel senso che di fronte a una minaccia se abbiamo paura il nostro corpo reagisce in determinati modi che ci aiutano se effettivamente c'è una minaccia quindi appunto siamo più attivi siamo più attenti notiamo più dettagli cose di questo tipo tachicardia rilascio di vari ormoni tipo adrenalina eccetera per fare in modo che il nostro corpo sia pronto per eventualmente scappare ovviamente essendo che il nostro corpo reagisce in questo modo a noi non è che ci va tanto di fare le cose che ci spaventano quindi se l'ansia ha un senso perché c'è un effettivo pericolo ok se non ha senso perché tu vai a fare qualcosa che ti piace però non si sa per quale motivo hai paura poi non vuoi più farlo ed effettivamente è come mi sono un po' sentita quando sono andata via dal centro sono contentissima ho pagato mi sono sentita in colpa perché ho pagato perché ho anche dei problemi con i soldi effettivamente e poi mi sono detto tipo ma perché lo devo fare non so se lo voglio più fare non so se vado non so così non so colì e quindi sono mi sono un po' demoralizzata per questa cosa è un peccato che io mi rovinì l'esperienza in questo modo ma è sempre così è sempre stato così probabilmente sempre sarà così quindi la mia tattica per il momento è non pensarci finché questa cosa non smetterà di farmi paura giovedì avrò la prima lezione quindi fino a giovedì starò probabilmente male e forse anche dopo però intanto vediamo sinceramente non voglio farmi fermare da questa cosa cioè voglio fermarmi perché la cosa non mi piace più non mi dà più soddisfazione e non perché ho paura o perché non mi sento all'altezza perché non sono in grado di affrontare questa cosa il posto è vicino posso farlo sinceramente voglio voglio provarci poi non è detto che ci dovrò sempre andare però ecco questa è la sensazione di una persona che vive con l'ansia nel senso che pure le cose che potrebbero farla fare bene la fanno stare male all'inizio e quindi è faticoso è faticoso anche semplicemente riuscire a capire cos'è che ci fa stare bene per continuare a fare quella cosa perché se tutto ci spaventa tutto ci fa paura ovviamente non riusciamo a capire cos'è che ci che ci mette ansia perché non ci piace o perché abbiamo l'ansia e basta detto questo amici adesso mi strucco mi lavo e nel frattempo la mia videocamera è morta non si ricarica più e non capisco per quale motivo e niente mi lavo poi farò da mangiare poi andremo a letto guardremo suiz probabilmente e poi basta io credo in me nel cuore mio tre cine time secondo te ce la faccio amore ad affrontare la vita cosa vuol dire pensi ma pensi e sei sicuro sarà meglio perché se no se non sei sicuro neanche tu vuol dire che non ho proprio speranza so you think you can love me and leave me to die baby amici questa stessa è la mia bellissima cenata con l'ansia sopravviveremo non lo so tu cosa dici che sopravviviamo si sono sicuro di che 25 e vi saluto e ci vediamo nel prossimo video cari membri dell'espo in squat ciao amiche